Buongiorno Corriere, le notizie di questa mattina sabato 27 novembre. Accreditato ieri pomeriggio ai lavoratori AICA lo stipendio del mese di ottobre in porto intero, non l'acconto del 50% di cui si era inizialmente parlato. Il pagamento nelle ore in cui si stava preparando la mobilitazione dei lavoratori e il clima si stava facendo pesante. Già da un paio di settimane i lavoratori dell'azienda idrica Comuni Agrigiantini hanno ottenuto dunque la mansilità di ottobre, ora c'è anche quella del mese di novembre. Sta facendo discutere un'intervista rilasciata ieri a TG di RMK TV dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Sciacca Roberto Locicero. L'amministratore conferma che i danni alla città dopo l'alluvione ammontano ad almeno 25 milioni di euro, ma ha detto pure che per via Lido la frana che ha reso pericolante un edificio privato è in un'area privata e che in sostanza tocca ai proprietari effettuare gli interventi di ripristino. Le parole di Locicero si stanno già attirando la rabbia di quelle famiglie che sono state sgomberate e che al momento non hanno più una casa, convinte dal loro canto che il crollo sarebbe stato causato dal noto problema al collettore fognario di via Allende. Altri 809 casi di contagio al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Giovedì erano stati 655, il tasso di positività sale al 3%, l'isola è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 11.239 con una diminuzione di 65 casi. I guariti sono 868, mentre le vittime sono 6 e portano il totale dei decessi a 7.179. I ricoverati sono 371, 5 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. In terapia intensiva 43 persone in provincia di Agrigenti, nuovi contagi sono 41. La Guardia di Finanza ha smascherato una banda di truffatori del Green Pass su Telegram. Le indagini hanno interessato anche la Sicilia. L'applicazione di tecniche ed indagini all'avanguardia da parte dei militari hanno consentito di individuare e perquisire diversi cittadini e amministratori di account Telegram che promettevano a numerosi clienti di fornire Green Pass autentici muniti di codici QR perfettamente idonei a superare i controlli imposti dalle norme vigenti. E' morto a 77 anni Angelo Sino, la mente economica del boss Totorina. Era chiamato ministro dei lavori pubblici. Le sue dichiarazioni a partire dal 1997 hanno aperto squarci sull'intreccio mafia politica e imprenditoria. Fino a quel momento soltanto sfiorati le indagini che lo hanno coinvolto nel corso degli anni hanno toccato anche in alcune occasioni la città di Sciacca. La morte risale a luglio scorso, la moglie aveva tenuto nascosta la notizia. All'avvolo stasera le partite della seconda giornata del campionato di serie C maschile per i saccenzi di scrittore Gioielli dopo la vittoria in casa all'esordio contro il Partinico. Questa sera alle ore 17 c'è la trasferta contro il club Leoni Palermo che nel primo turno ha vinto 3-0 sul campo del Capaci. Nel campionato di serie D femminile turno di riposo per la squadra di Sciacca. Calcio domani la dodicesima giornata del campionato di eccellenza con i saccenzi dell'Unitas che saranno di scena a Mesilmeri. La squadra di Gioraldi è riduce da 6 risultati utili consecutivi. La trasferta di domani ore 14.30 si annuncia difficile contro una squadra che viaggia dall'inizio della stagione nelle zone alte della classifica. E' tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona giornata e buon fine settimana.